Tutti i metodi opera sono basati su tre estrazioni, incrociati oppure isotopi. E adesso vediamo la seconda parte di questo metodo che cambia parecchio rispetto al primo, cioè opera re. Quindi questa è opera re 2 e cambia un po' il sistema. Comunque è basato sempre sul sistema, sul metodo opera che praticamente prende in considerazione tre estrazioni e di solito sono o isotopi oppure cadenze incrociate. Vediamo subito come bisogna operare. Quindi si prende la prima cifra più alta in cadenza, quindi 8 più 7, si fa la somma dei due numeri e fino a ottenere un numeretto, una figura, e poi 1 più 5, come si vede, 6. La stessa cosa si fa con l'altra cadenza, quindi 3 più 7 uguale 10 uguale 1 e otteniamo una figura. Questi numeri si mettono in ordine in un quadrato, come si vede. La stessa cosa, la stessa operazione si fa con gli altri due numeri incrociati, quindi il 14 e il 13 in questo caso, e poi in ordine dal cadenza più grande alla cadenza più piccola, si mettono insieme i due numeretti. In questo caso si vede 61 e poi dalla cadenza più grande al numero incrociato più piccolo, come si vede sempre in figura nell'animazione, quindi si ottiene un 64. Mentre la cadenza più piccola con il numeretto più piccolo degli altri due, otteniamo anche il suo vertibile, quindi 41 e 14. Vi metto uno specchietto in modo da poter mettere insieme il tutto. Adesso vediamo qualche esempio pratico e naturalmente qualche accorgimento. Quindi questo è quello che abbiamo appena visto, si vede su Venezia 87 e 37, quello che è stato appena visto in animazione, e quindi l'esito in questo caso è stato subito al secondo colpo con il 61 e il 41. Poi scorriamo e vediamo ancora un altro caso con il 9, cadenza 9, dove c'è stato a quarto colpo un esito positivo con il 52 e il 21. Un altro accorgimento è quando vedete due figure uguali, in questo caso il 3, evitiamo di giocare perché ci sono dei problemi, quindi quando c'è il numeretto figure uguali, no. Scorriamo, come si vede, qua non ci sono cose uguali, abbiamo il 21 e il 61, cadenza, e naturalmente anche qui esito al primo colpo con il 38 e l'83. Poi, quando c'è invece lo 0, in questo caso il 40, quando abbiamo il 40, bisogna giocare direttamente le quattro figure. Si gioca direttamente le quattro figure con l'incrocio del numero in cadenza, l'84 e il 34, 84 e il 34, in questo caso si gioca il 37, no, sì, 37, perché è 3 e 7, quindi 37, insieme a quattro numeretti, che sono i quattro numeri qua. Quindi, queste regole, naturalmente vi faccio vedere dei piccoli esempi, che dopo il tempo diventa troppo lungo, farò un altro video. Quindi, numeretti no, quando ci sono numeri invece normali, in questo caso, cadenza 7, esito al terzo colpo con 85 e 58. Ecco, io vi faccio una carrellata, ma in questo caso vi ho fatto degli esempi pratici, ma comunque ci sarà un altro video al riguardo. Con questo vi saluto, ciao, alla prossima!